La prima cosa da dire è che la Cina è un paese molto esteso, un paese molto grande che è composto da tante etnie diverse e non solo da tante etnie, ma anche da situazioni economiche differenti. Ci sono realtà economiche sviluppate e altre più deboli. Tutto questo rende complicato governare il paese, ecco perché il ruolo del Partito Comunista si è dimostrato essere molto utile, molto importante. Per quanto riguarda la pandemia da Covid, la Cina ha agito velocemente e ha sempre cercato di mettere al centro la cooperazione internazionale, in ambito sanitario ma non solo.